È inconcepibile continuare ad utilizzare, per il collegamento tra milionico e grottole, la strada rurale realizzata ai tempi in cui si privilegiavano le opere di civiltà nelle campagne. È il commento del consigliere PD Giuseppe D'Alessandro di fronte al perdurare dello stato di emergenza dopo la frana sull'ex statale 7 che da ormai 5 anni impedisce la normale comunicazione tra i due comuni. D'Alessandro denuncia che la stradina rurale alternativa è un percorso tortuoso che non può sostenere il traffico ordinario e quello commerciale pesante e non risponde ai requisiti minimi di sicurezza. In caso di interruzioni stradali dovute a calamità naturali, sostiene il consigliere, deve essere la protezione civile, con i suoi poteri straordinari, ad intervenire con tempestività. Si faccia in modo, conclude D'Alessandro, che la tragedia di Crago, dove per una situazione analoga ha perso la vita la povera Anna Lanzillotta, non sia avvenuta in vano.